Lo sportello del cittadino è a Bari in piazza del mercantile nel borgo antico di Bari, nel centro storico, un centro storico che negli ultimi anni, anzi da un bel numero di anni a questa parte, è stato completamente ristrutturato e ora è una meta turistica davvero invidiabile. Siamo con Ugo Lomartire, già consigliere comunale di Taranto e già presidente della circoscrizione Isola Porta Napoli e allora Lomartire, proprio lei che conosce il borgo antico di Taranto, beh ci viene un po' di rabbia vedere il nostro borgo antico decadente che cade a pezzi e invece dovremmo prendere esempio da altre realtà pugliesi come per esempio da Bari. Sicuramente il centro storico di Taranto non è per nulla valorizzato per come dovrebbe essere, la nostra città vecchia non ha nulla a che invidiare ad altri territori per la sua bellezza, è una città vecchia unica in Italia, però purtroppo non è valorizzata, bisogna che ci sia un intervento serio, atto a recuperare quelli che sono gli edifici, atto anche a migliorare la vivibilità quotidiana dei cittadini residenti che sono cittadini meravigliosi, sono cittadini che pagano le tasse, sono cittadini calorosi e hanno tutto il sacrosanto diritto di vivere in condizioni buone dal punto di vista della vivibilità quotidiana. Ecco, quello che manca a Taranto rispetto a Bari per esempio è la programmazione, non si procede così con interventi tampone ma bisogna programmare, strutturare mentalmente, io dico prima ancora che proprio materialmente una rivisitazione, una rinascita di un borgo antico. A Bari è accaduto, a Taranto non accade. Sì, e per fare questo molte volte ci vuole veramente poco anche a organizzare un servizio di pulizia, purtroppo nella città vecchia c'è una grave carenza dal punto di vista della pulizia, dell'igiene urbano, occorre migliorare l'illuminazione pubblica e occorre realizzare degli interventi e delle manifestazioni che non siano delle manifestazioni sporadiche ma che sia un vero e proprio calendario che possa portare in maniera stabile cittadini e turisti nel nostro centro storico e questo sicuramente può creare anche tanta occupazione perché basta vedere qui a Bari quante attività commerciali sono aperte e quante persone lavorano in questo centro storico. E' quella che si chiama economia del turismo? Giustamente, l'economia del turismo e di economia del turismo Taranto ci potrebbe vivere benissimo perché è una città stupenda, è una città meravigliosa e come dicevo prima non abbiamo nulla che invidiare ad altri territori, si potrebbe creare tantissima occupazione nella città di Taranto con il turismo. Logicamente basterebbe andare a valorizzare il nostro territorio e anche a creare quei servizi minimi che possano dare la vivibilità ai cittadini innanzitutto che ci vivono e anche alle persone che poi vengono da fuori che non devono trovare una città in non buone condizioni.